So che sembra strano ma non si vendono più pc ma nonostante questo forse non è la notizia peggiore che possiamo ascoltare Adesso vi spiego perché Salve a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video Prima di iniziare ragazzi voglio soltanto ricordarvi che il 27 aprile esce la nuova puntata di pc peggiore del mondo Con una nuova location, siamo stati in un posto molto particolare, io vi invito a guardarla perché sarà una puntata epica Quindi non ve la perdete Soprattutto se poi non la volete perdere dovete iscrivervi al canale Ovviamente se non l'avete fatto attivando la campanella altrimenti poi esce il video e non lo vedete E lasciate un mi piace per quel video e anche per altri video come questi Magari ogni tanto non lo so tipo di comenzialmente ma ogni tot possiamo guardare com'è la situazione E la situazione oggi è questa qui Allora praticamente questo qui è un grafico che è sul sito statista che più o meno raccoglie un pochettino tutte le metriche di ciò che riguarda appunto diverse cose Tra cui anche le spedizioni di personal computer dal 2006 al 2022 E possiamo vedere come il 2022 dopo il picco del 2021 che ci ricordiamo tutti quanti molto molto bene per i tempi d'attesa e per la penuria di componenti Possiamo osservare come effettivamente nel 2022 si è sceso parecchio anche al di sotto del 2020 Non come il 2019 e il 2018 che sono stati a quanto pare gli anni proprio peggiori Cioè quelli dove proprio si è comprato meno letteralmente E siamo praticamente sui livelli circa del se non sbaglio 2015 Dove comunque le cose si vendevano 2015 anno penso Intel Skylake AMD RX 480 Forse anche GTX 1070 1080 insomma più o meno quegli anni lì dovrebbe essere insomma Un anno non indifferente Vediamo quindi che comunque insomma c'è stata una grossa discesa Questo qui è il primo fattore fondamentale che poi vi farà capire perché non è una cosa così negativa Se noi continuiamo possiamo vedere come effettivamente tutti i brand abbiano avuto una perdita La perdita più grande per quanto riguarda il mercato dei personal computer Anche se loro non li chiamano PC E' sicuramente Apple che come vedete ha fatto ben il men Ben Men Il 45% di ciò che invece aveva spedito all'inizio dell'anno precedente E' la metà Apple ha praticamente venduto la metà dei dispositivi rispetto all'anno scorso Nonostante comunque abbia dei prodotti che sono effettivamente vari Il MacBook con la nuova architettura AM quindi ARM, Apple Silicon eccetera sono dei buoni prodotti Quello che ovviamente sembra andare ad osservare all'interno di questa grafica E' come se alla fine i brand che riescono a darti dei prodotti magari a un livello economico inferiore Abbiano effettivamente diciamo posso dire un meno calo rispetto E questa qui è una variante molto importante Perché questo? Per chi ha capito che effettivamente offre molti prodotti a prezzi accessibili Non stiamo qui a discutere sulle qualità dei vari brand eccetera Rimaniamo nell'ambito dei prezzi Vedete che ha avuto effettivamente un impatto molto meno forte Asus che dà una grossa fascia di prodotti Da quelli molto economici a quelli molto costosi anche non ha subito molto Dell invece come anche Lenovo Che magari adesso sta puntando un pochettino su quei PC diciamo alto spendenti Stanno comunque rinnovando la loro line up Per quanto riguarda Legion, la line up gaming eccetera Hanno subito dei cambiamenti comunque superiori al 30% Questo qui va a narrarci un trend Un trend che tra l'altro è anticipato già a mia mente dal fatto che la Apple Faccia il meno 45% Nonostante la Apple offre offra comunque dei prodotti come il Mac Mini Sono dei prodotti molto economici E per la fascia di prezzo che rigropono Fanno anche bene ovviamente dati al loro utilizzo Non pensare di prendere il MacBook M2 Di farci le cose stratosferiche Quello va preso per fare quel mestiere lì Punto Questo qui praticamente è una cosa che rivediamo in moltissimi siti Dove è un po' di più, dove è un po' di meno Dove comunque le cifre sono sempre quelle C'è comunque davvero un grosso problema al momento per le case produttrice Soprattutto per disfarsi dei magazzini Il fatto dei magazzini, dei disfarsi del magazzino Non è una cosa da tenere sotto gamba Perché? Perché dovete ricordare che se io ho dei prodotti Questi prodotti devono essere in qualche posto I prodotti fermi hanno un costo Vi sembra assurdo ma una volta che un prodotto è stato prodotto Non finisce lì la spesa dei vari brand Perché soprattutto c'è bisogno ad esempio di un sito di stoccaggio Che nelle maggior parte delle volte può essere affittato O comunque semplicemente se ho un sito di stoccaggio Che è dedicato a quel prodotto Non posso metterci altro Di conseguenza mi sta occupando dello spazio E mi sta impedendo comunque di generare liquidità O fare soldi O vendere eccetera Tant'è che infatti Apple Partiamo dal presupposto che il 40% Del fatturato di Apple nel 2022 È iPhone Il che vuol dire che effettivamente se Apple non avesse gli iPhone Sarebbe un grosso problema Perché praticamente la metà di quello che fa Apple Oggi sono gli iPhone Il 40% Ma soprattutto avendo spedito praticamente meno del 40% Hanno interrotto le produzioni di MacBook M2 Di MacBook scusate Insomma di dispositivi M2 Perché comunque hanno i magazzini pieni E devono disfarsi di quelli E soprattutto adesso Stanno anche puntando comunque a nuove tecnologie Lanceranno sicuramente nuove cose Sono anche molto curioso di vedere come si evolve La faccenda degli Apple ARM Soprattutto visto anche insomma Gli ultimi stratagemmi su iSai Linux È un video che vi devo portare da non so quanto tempo Ma non voglio portarvi un video incompleto Siccome stanno apportando delle modifiche molto grandi a questo sistema Voglio aspettare che sia tutto pronto Vado da farvi vedere effettivamente le grosse potenzialità E l'open source Ma non vi preoccupate Arriveranno altri video su questa cosa Che sono molto molto interessanti Ma sempre Saddi del futuro Tra l'altro è qui per dirvi che Gli scondi su KissFun non sono finiti Ci abbiamo i nuovi scondi Ma i coupon sono sempre gli stessi Come si usa KissFun è molto semplice Voi andare sul sito Scegliete quello che vi pare La chiave di Windows Inserite il codice Vi dà diritto un bello sconto Sappiamo che il codice probabilmente sta per Saddi Vi arriva per email Lo mettete su Windows E il gioco è fatto Tutti i link stanno in descrizione Tornando anche al mercato Appunto magari che vi è un pochettino più caro Che è quello delle schede video Che è quello forse che ci ha fatto diventare un pochettino Tutti quanti economisti Noi siamo tutti quanti economisti Ci abbiamo anche ovviamente Un piccolo primo grande record Da parte della 4070 Perché la 4070 Ad una settimana la sua uscita È ancora in stock Ed è possibile acquistarla a MSRP Vediamo come dire C'è questo artico Questo di Oct3 Di Oct3DNet E vediamo come effettivamente Ci sia disponibilità di schede video A prezzo MSRP Anche al di sotto Ovviamente Per quanto riguarda appunto Il mercato inglese Di un buon numero di schede video Ok? Cioè la 4070 Le persone non la stanno comprando così tanto Come invece in realtà si pensasse Che dovesse spaccare il mercato Perché era l'RTX 4000 Meno costosa Allo stesso modo Tornando in Europa Visto che c'è stata la Brexit Quindi il Regno Unito Non è Unione Europea Praticamente Il SEO case Posso vedere anche Insomma lo storico Cioè Praticamente lo storage Di tutti i negozi E io non mi ricordo Di aver mai visto Tutti questi pallini verdi Uno di loro l'altro Per delle schede video Che tra l'altro Pano dei 631 euro Della Game World Fino ad arrivare Anche poi non lo so Qui siamo ancora Già comunque posso dire Ad altri tipi di schede Che comunque hanno anche Un costo superiore Spesso Per esempio anche la Inno 3D bianca E siamo ancora sotto Le 700 euro Il che vuol dire che effettivamente C'è stato un livellamento Verso il basso Ma allo stesso modo Se io vado Semplicemente su Amazon Posso comunque trovare Trovare delle soluzioni Di RTX 4070 650 660 euro Anche nel mercato italiano E sta cosa è strana Perché solitamente Ci abbiamo le cose più care Perché non si stanno Comprando queste schede Molto semplicemente Per un motivo Grosso La 4070 È una scheda Che nel panorama Delle schede video Al prezzo In cui viene lanciata Non aggiunge Nulla Ora Ovviamente il fatto Che comunque Insomma Tolta la favoletta E molti dicono Che poi acquistavano Nel RTX 3080 Più o meno Allo stesso prezzo E invece chiaramente Non è Vabbè Tornando a noi Tolto il fatto Che comunque Come posso dire È una scheda Che per il prezzo Che ti dà Ti dà Delle ottime Perform Vabbè Insomma L'avete capito È una scheda Che tolte Le migliorie Che secondo me È una scheda video Che può tornare Molto più utile A chi fa content creation Arrivato a questo punto Rispetto a chi magari Vuole Ovviamente giocarci Che c'ha la incodera V1 Che quella è veramente Una cosa che le altre Schede non possono avere In nessun modo Cioè magari tu dici Sì ma rilasce L'FSR 3.0 A giusto Rispetto al DLSS C'è la V1 Però quello scordatolo Quindi Quello secondo me È il vero compito La RTX 4070 Comunque È una scheda Che non è stata Molto apprezzata Nel mercato americano È stata praticamente Anche snobbata E Tant'è che infatti Delle immagini Di file Chilometriche Dietro ai negozi Di code Di botte Conoscere tutti Come la situazione Rispetto a come era prima Non c'è più Neanche L'ombra Praticamente Tutte le schede Ad oggi Sono in stock Anzi Molto spesso A mancare Sono soluzioni Come la 4090 Che è già Una posizione Di fascia Elevatissima Rispetto a questa Che invece Sembrano Che gli stock Siano belli Pieni E se c'è una cosa Che abbiamo imparato Questa Non è Una cattiva notizia Innanzitutto La community Sta lanciando Un segnale Non siamo Disposti A spendere Così tanto Per queste Performance Per performance Che comunque Sono simili Se non inferiori A quelle Di generazioni Passate Allo stesso prezzo Questo qui È già un segnale Molto molto forte Che stiamo lanciando Mi fa piacere Molti si trovano Ancora combattuti Con la 4070 Io ve l'ho detto Non starò qui A dirvi Di non comprare L'RTX 4070 Posso dirvi Che ne ho comprata Una Ma l'ho pagata Circa 100 euro Di meno L'ho pagata 550 Ho preso Una Ventus E se pensavo Che con Almeno nel mio modello E se pensavo Che con la serie 4000 I problemi Sulle VRAM Sui hotspot Fossero risolti E ho potuto notare Come invece Magari su una custom Come la Ventus Però Richiederà un video Approfondimento Questa cosa Quindi non vi preoccupate Ma adesso Non avrei neanche tempo Di fare quel Pre-GT test Però Però Sappiate che comunque Con le GDDR6X Tranquilli Tranquilli Non si sta mai A meno che non ci abbiano Una 4090 Che c'è un dissipatore Così E allora lì potete Anche stare tranquilli Ma su 2000 euro Di scheda Ci mancherebbe altro Pensavamo la stessa cosa Della 3090 Invece prendevano fuoco Anche quelle Ovviamente Un mercato attendista E un mercato Che alla fine Andrà a premiare Sicuramente I più pazienti E sicuramente Chi non vuole Spendere molto Per questa scheda Il fatto che la scheda Dopo una settimana Si riesca a trovare Già in alcuni mercati Al di sotto Del prezzo MSRP È una notizia gigante E poco 400 euro Costano Praticamente la metà Quelle schede Rispetto a quando Dovrebbero Ed è così Che le cose Dovrebbero andare Per una scheda Che è uscita Due anni fa Anche perché Possiamo vedere Che al di là Di tutto ciò Che serve Di tutto ciò Che possiamo Rienere utile Il progresso Tecnologico Comunque va avanti La RTX 4070 A livello tecnologico È comunque Una scheda Che andata avanti Rispetto alla 3080 Perché appunto Abbiamo visto Come i rapporti Tra i consumi E le prestazioni Siano effettivamente Favorevoli Sicuramente alla 4070 Nelle performance Siamo lì Ma se ne consumi La 4070 Consuma molto Molto meno Non butto Nel calderone La 6950XT Per un semplice motivo La 6950XT Probabilmente Molti di voi Non lo sanno Ma c'ha questa Maggia nera Che si ama Undervolt ok Letteralmente voi Premendo Facendo un click Sul computer La scheda comincia Dal consumare 330W A consumarne 260 Che è praticamente 60W In più Della 4070 Pensate un pochettino La magia Dell'Undervolt Perdendo circa L'1% Di performance Quindi insomma Se poi ci vedete L'1% Rispetto alla 4070 È comunque sopra In raster In raster In raster Perché non si ha mai A parlare del resto Insomma però Volevo dirvi Per tutte le persone Che comunque dicevano No Perché quella Va consumare di più C'è la magia C'è questo tasto Di magia nera Pensate addirittura Ci sono dei tool Che vi ho già fatto vedere Come More Power Tool E Hydra Pro Che proprio premi un click Ti fa tutto Tu non devi neanche fare niente Vuoi fare RAM Fai il processore Fai la scheda video Fanno qualsiasi cosa Quindi insomma Vabbè Questa è Questa è la magia Di conseguenza Di conseguenza ragazzi Cosa voglio cercare di dire Voglio cercare di dire Che se non avete Questa impellente esigenza Sembra un orologio rotto Sembra un disco Un orologio Anche Sembra un disco rotto Però voglio veramente Mettervi in chiaro Questa cosa Se non avete Questa impellente esigenza Di acquistare In questo momento Essere attendisti Può premiarvi Io capisco che molti di voi Sono magari scottati Alle situazioni precedenti Perché magari dicevano E' stata la scheda video Ma non prendo l'occasione Ma aumentare i 200 euro Ma questo ma qua Il 2022 è un mercato Come abbiamo potuto notare Completamente diverso Ok Rispetto a quello Degli ultimi due anni So che molte persone Col boom della pandemia Si sono avvicinate In questo mercato E quindi per queste Le loro sono dinamiche nuove Che non riescono magari A comprendere Che vedono una scheda Una 40-70 650 euro E ci si fiondano Perché dicono Oh mamma mia Guarda che performance Guarda qui Perché comunque Gli manca tutto uno storico dietro Di come le situazioni si evolvono Di come le situazioni sono state La storia Anche per quanto riguarda Il mercato dei componenti hardware E' ciclica Abbiamo avuto quel problema Che è stato un problema Dovuto rispetto a tanti problemi Vi dirò tra l'altro Che siamo a metà Del ciclo Dell'alving Del bitcoin Quindi comunque Insomma Cioè Io adesso Ethereum non è più minabile Ma ci sono comunque rimaste Diverse monete Che stanno Cripto monete Scusate Che stanno iniziando a prendere piede E che comunque Iniziano a fare guadagnare Qualcosina Quindi comunque insomma Tenetevi bene a mente Che da un momento all'altro Pum Scoppia la mania E qui finisce tutto Però Essere attendisti In questo momento Se non avete Sabina esigenza Potete farlo Anche perché Le schede video Che da adesso in poi Usciranno Dalla 4070 in poi Per quanto riguarda Nvidia E AMD Ti presenteranno 7800X Che comunque Sarà già molto simile Alla versione Workstation Che hanno già presentato E che vabbè Ci avrà altre caratteristiche Altre qualità Eccetera Sono comunque tutte schede Che andranno Come schede Che ci sono già sul mercato Di conseguenza Se non avete Questa necessità Calma Prendetevi il vostro tempo Utilizzate in modo oculato I vostri soldi Perché sono vostri Vi ricordo Cioè nel senso So che sembra strano Che voi volete lanciarli A ste case produttrici Come se non fossero vostri Però i soldi sono vostri E spesso non serve Che tu ne spenda Così tanti e tutti insieme Un minimo di attesa E questa scheda Sicuramente ben presto Scenderà sotto Alle 600 euro Io immagino che già Per Per metà maggio Inizio giugno Staremo già Tranquillamente sotto Alle 600 euro E probabilmente Andando in conto L'estate Dove magari C'è ancora meno domande I prezzi possono scendere Ancora di più Tra l'altro Vi ricordo Che più o meno A giugno Verrà presentato Anche L'FSR3 Perché più o meno Quello è il periodo In cui AMD Presenta queste Queste nuove novità Software Ovviamente nel frattempo Ci sono anche tutti i mercati Appunto quello là Apple Che se non sbaglio A breve c'è anche La loro conferenza Quella che fanno tutti gli anni Eccetera eccetera Quello anche Sarà una situazione particolare Per capire Apple Quale strada Vuole intraprendere Perché fare metà Di quello Che si faceva l'anno prima Con i computer E insomma Non è una bella cosa Potrebbero anche scegliere loro Di abbassare notevolmente I prezzi Rendendo accessibile Questi prodotti E soprattutto Ve la lascio qui Come chicca così E appena è uscito Protonotto Sapete cos'è Protonotto? Quello che vi permette Di giocare con la Steam Deck Il che vuol dire Che mi aspetto Molto presto Novità anche da quel lato Che se alla fine La Steam Deck Sembra un prodotto Che comunque vende Però la Steam Deck Abbiamo capito La possiamo più assimilare Ad una console Ad un PC Di conseguenza Se adesso si vendono Xbox e PS5 Come se piovesse La Steam Deck Subisce lo stesso Detto questo ragazzi Mi raccomando Fatemi sapere voi Cosa ne pensate Fatemi sapere Se volete aspettare O se volete comprare Così almeno anche Ci facciamo un sondaggio Tra di noi Tra i commenti Così per capire So che molti di voi Hanno le idee confuse Non sanno mai cosa fare Io semplicemente Vi direi Ok Questo qui è il momento Dove magari Possiamo essere attendisti Mio personalissimo Punto di vista Poi non lo so Magari mi sbaglio E niente Il video ho sbagliato Ciao Ciao Grazie a tutti.